La stagione teatrale del Teatro Traetta di Bitonto inizia con un grande spettacolo, la Rimban Band. La mitica Rimban Band che dopo Zilli Goff e dopo il tutto il saurito dell'interno mese di dicembre e di gennaio al Teatro Forma di Bari inizia la sua tournée del Rimban Band Show Reloaded proprio dal Teatro Traetta di Bitonto. Grazie a tutti. Devo dire bello, bel pubblico, caloroso, sensibile, partecipe. Ma i pareri del pubblico li voglio sentire, li mandiamo in onda adesso? No, li faccio vedere. Ok, grazie. Buon spettacolo. Sono un palarissimo. Complimenti. Coltullo è bravissimo, è sprecato per questo tipo di... Per me è superore a quello che si è visto. C'è l'attitudine. Coltullo è brava. È originale, fatto molto bene, la gente molto prevede. Mi è piaciuto tanto. Mi sono divertita molto. Beh, bravissimi come al solito alla fine. Sono efficienti e comunque speditosi come sempre. Sia nel suonare che nel far divertire la gente. Bellissimo. Bellissimo. Per me è bellissimo. 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 Grazie. Professionale. Professionale. Bravo, bravo. Non ci aspettavamo. È stato bellissimo. Divertentissimo. Un iscritto di talento alla comicità. Perfetto. No, veramente un bellissimo spettacolo. Veramente bello. Super laggiù. Bellissimo. Io saluto tutti gli amici di Bitonto che sono venuti a trovarci. Il teatro è una bomboniera straordinaria. Dovremmo cercare di valorizzarla. Ringrazio l'assessore Sara Achille che ha profuso impegno e energie. Così tante energie che stasera è stata impossibilitata a venire perché era malata. La saluto, la ringrazio. Abbiamo fatto 15 sold out su 15 repliche. Risultato incredibile visti i tempi di crisi. Adesso ci aspettiamo di girare l'Italia. Così come faremo. Settimana prossima, 2, 3, 4 febbraio, siamo a Milano. Torniamo allo Zellicabaret con Rimbabend Show Reload. La settimana successiva siamo a Roma. Poi la settimana ancora successiva siamo al nord, mi sa, in Trentino da qualche parte. Con il sol ci ha dato la testa. Un giudizio sul pubblico bitontino che non è tanto diverso da quello barese. è sanguigno e pronto a ogni battuta, a ogni evenienza. La Rimbabend cresce ogni ora che passa, ogni settimana e ogni mese. Ogni giorno, per fortuna. Perché se no avremmo già finito l'anno scorso. Il risultato è un buon risultato. Ci siamo molto divertiti questa sera. Il teatro è bellissimo. È davvero molto molto bello il teatro. Qui si sta sempre molto molto bene. Cosa altro posso dire? Noi siamo stati bravi, siamo stati molto bene. Ci siamo divertiti come sempre. Pubblico è caloroso. Il rosso è nelle mie spalle che saluta. Sì, ciao. Magari facciamo dire qualcosa anche a lui. No, no, io non parlo. No, no, come mai? Lui non parla. Lui parla, parla. E come che parla? Deve andare a fumare. Deve andare a fumare. Ma non puoi andare a fumare, scusami. Almeno saluto il pubblico di Bitonto. Ciao a tutti. Ciao al pubblico del teatro Traetta di Bitonto. Traetta di Bitonto. Traetta. Tanti saluti, io non parlo normalmente. Però riesco a farlo parlare. A pulso con furore e vi saluto da... Vi saluto. Che cazzo? No, vabbè, stavo mandando un messaggio, ma niente di che. Insomma, intanto invadere la privacy e la sua esperienza. Com'è stato questo? È stato bellissimo, soprattutto perché nel secondo pezzo praticamente mi si è spezzata in mano, sono rimasto con una chiave del sassofono. Cioè, non mi suonava più il sassofono, ma niente di che. Cioè, ho dovuto imparare a non suonare il sassofono durante lo spettacolo. Non se ne è accorto nessuno. Non se ne è accorto comunque. Benissimo. Quindi è andata alla grande, insomma. Un grande bluff. Ok. U la la, u la la, u la la, u la la la, questo è il balzo del Moscerino. U la la, u la la, u la la, questo è il balzo del Moscerino. L'Aaron! Sei bravissimo. Grazie. Grazie.